Acqua Fair 2019, siamo allo stand di Sorgenti Blu e ci troviamo in compagnia del suo amministratore Marino Cantelli, Marino benvenuto Buongiorno a tutti Spieghiamo in un minuto qual è la storia di Blu che è in parte Sorgenti e in parte Società di Servizi Allora Blu nasce nel 1998 da una specie di copiatura di quello che succedeva già all'estero da tanto tempo Siamo entrati sul mercato prima solo con il servizio di acqua in boccioni consegnato presso gli uffici Poi dal 2007 è partita anche l'azienda di imbottigliamento, di produzione dei boccioni Quindi abbiamo creato anche Sorgenti Blu Adesso siamo tra le prime aziende in Italia a fare questo servizio Abbiamo numeri importanti, siamo orientati in una bella realtà e cerchiamo di continuare a fare questo servizio di somministrazione di acqua per le aziende Acqua di tutte le salse E si chiama proprio servizio di somministrazione attraverso erogatori refrigerati Le famose colonnine che si vedono spessissimo in giro in tutta Italia ma non solo in Italia Marino, perché siete qui a Aquafare 2019? L'occasione è quella di partecipare a un evento nazionale con una discreta portata Per presentare i nostri prodotti e i nostri servizi In particolare qui siamo come Blu che presenta una macchina nuova Più che nuova è esclusiva, è nostra, solo nostra, è molto bella di linea Fornisce tutto quello che può essere legato all'acqua Quindi un'erogazione di acqua fredda, temperatura ambiente, calda, gasata C'è di tutto, possiamo dare tutto E voi servite in effetti proprio tutto il territorio italiano? Come Blu siamo attualmente presenti in tutta Italia Abbiamo 22 magazzini sparsi su tutto il territorio Due fonti di cui bottigliamo E da lì serviamo veramente tutta l'Italia Anche con una rete di concessionari, rivenditori Che utilizzano i nostri prodotti E allora, per chiunque non sia riuscito a venire qui a Venezia Alla Biennale dell'Acqua da Bere Cerchiamo di mettervi in comunicazione Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere Per entrare in contatto con voi Avere maggiori informazioni E chissà diventare successivamente vostro cliente Noi abbiamo due siti differenti Uno è blu, 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 molto facile Tre volte il colore, .it Dove trovate tutto il servizio spiegato per il cliente utilizzatore finale E poi abbiamo un secondo sito che è quello di sorgenti blu.it Dove trovate tutto quello che noi produciamo E imbottigliamo e possiamo vendere Naturalmente tutto ciò che abbiamo detto È rivolto sia da una parte ai concessionari e rivenditori Che vogliono diventare vostri partner commerciali Sia a aziende L'utente finale Sia all'utente finale All'utente finale E allora grazie per la collaborazione Grazie a voi Noi amici continuiamo in questa fiera dell'acqua Organizzata da Water Cooler Italia a Venezia Grazie a voi Grazie a voi Ciao Autore dei sorrisi